Simon credo che sia fan di John Cena cosa ti auguri di vedere nel 2025 sarà un lungo anno di eventi ma diciamo io c'ho sempre un po' paura di quando John torna cioè io sono un grande fan appresso con tutto quello che ha fatto però diciamo siamo sinceri che per quanto faccia piacere rivederlo nel ring con gli ultimi incontri che ha fatto non era propriamente il John non era ai livelli ai quali ci ha abituato anche chiaramente l'età non è dalla sua soprattutto se tu manchi tanto dal mondo del wrestling ci vuole del tempo per riprendere ritmi e tempi però penso che a quanto se vuole fare una cosa di un anno chiaramente dovrà dedichare quell'anno alla WWE fondamentalmente perché non è poi girare un film e ci metti 4-5 mesi quindi mi viene da pensare che John faranno una serie di program specifici con avversari significativi nei quali John che ne so magari affronterà Russell Mania Randy Orton affronterà per il motivo di un nome Brown Breaker per il titolo intercontinentale perché è l'unico titolo che John non ha vinto magari un altro match contro Roman Reigns così sapremo anche quando inizia SummerSlam mi aspetto questo ecco dei match un po' un tour celebrativo della carriera di uno dei più comunque uno dei più importanti atleti della storia perché cioè John Cena vent'anni di carriera è al top come uomo immagine mi aspetto quindi questo niente di più niente di meno che di un tour celebrativo in cui magari ha ripreso i ritmi quindi può fare dei match un pochino migliori e niente cioè poi pronto a ritirarsi definitivamente e dire addio alla tua carriera come lottatore sperando sempre che poi ogni tanto ritorni a fare un saluto perché cioè anche Al Kogan per dire è ritirato da una vita eppure ogni tanto torna a fare un promo capito perché comunque sei cioè John Cena è la WWE e la WWE deve tanto a John Cena secondo me è proprio semplice quindi quando c'è quando ho letto del suo ritiro cioè ragazzi un po' la cosa ci è arrivata a tutti quindi mi aspetto che sarà un anno ripeto nostalgico per tanti aspetti però molto bello a chiudere bene si spera al meglio possibile la carriera di uno dei più grandi di sempre intanto mamma che ansia ottavo mese di abbonamento con noi col Prime grazie mille mamma che ansia per la fiducia rinnovata e per l'abbonamento grazie mille e nuovo campione o campionessa 24 7 per la live di domani per la live reaction di Summerslam di Summerslam di Smackdown e oramai con sto meme di Summerslam mi rimane in testa a vita il 2025 di Sina guarda io mi immagino questo scenario qui almeno fino a Vrestelmania che Sina venga eliminata dalla Rumble da un giovane può essere il Carmelo Ace di turno il Brom Breaker insomma mettetela un po' come come volete comunque un giovane e poi successivamente venga anche eliminato all'interno di una delle dell'Elimination Chamber visto che a meno di clamorose sorprese ci sarà anche Elimination Chamber come pay per view prima un live event e e poi dopo facciano la sfida a Vrestelmania nuova contro vecchia generazione un po' come con Austin Theory da lì in poi partire un far partire un tour della nostalgia può essere una buona cosa però attenzione perché comunque Sina come ha detto anche giustamente Simon non è più il Sina di dieci anni fa dieci quindici anni fa e affiancargli gente come Punk come Orton con il quale ha avuto delle belle rivalità in passato anche solo Simus può venire fuori un match non dico noioso però comunque io mi ricordo i Sina Orton di quando erano in forma tutte e due e non è che proprio saltavo dalla sedia a vederli tutte le volte diciamo che qua secondo me il discorso è anche in conto se tu devi fare il main event dello show perché John Sina contro Randy Orton era il main event sempre e comunque in questo caso magari sarà un match di dieci minuti sì magari un po' lentino però sai quali match li farà tutta l'emozione secondo me cioè se farà dei match contro delle leggende saranno tutti i match fatti al 99,9% di emozione e sentimento e poi finisce l'incontro se guardano e si abbracciano cioè capito io voglio cioè sarà questo un tour celebrativo non mi aspetto chissà che e un'altra cosa anche da non sottovalutare è AJ Style perché tutti parlano di Orton o di qua e di là però Sina ha avuto anche delle belle rivalità con AJ Style quello è un match che mi piacerebbe rivedere scritto nella maniera nella maniera giusta poi c'è chi parla del daranno il diciassettesimo titolo a Sina sì no insomma più che dare il diciassettesimo titolo a Sina a me piacerebbe che Sina vincesse il titolo intercontinentale più che il diciassettesimo titolo per farlo diventare un Grand Slam Champion visto che è l'unico titolo che gli manca in bacheca e poi che e poi che e poi secondo me il suo compito sarà anche molto elevare dei giovani e potrebbe anche finirci in mezzo secondo me Austin Theory che potrebbe andare a rifinire nella nelle cerchie di Sina ecco nel nel giro di Sina ecco mettiamola così se posso aggiungere sul diciassettesimo titolo io sono non sono d'accordo perché a parte che il record è un po' non dico farlocco ma abbastanza sotto gli occhi di tutti che quei diciassetti in realtà sono un po' di più di Ric Flair sono tipo una ventina almeno poi Sina ha sempre detto di non voler prendersi volersi prendere quel record ma perché gli sembrerebbe anche un po' di mancare di rispetto a una leggenda di rispetto